Ciao a tutti, io sono GB Factory e benvenuti in questo nuovo tutorial su Java Swing in cui vedremo come utilizzare le checkbox. Le checkbox sono delle caselle di controllo in cui un utente può mettere o togliere una spunta con un semplice click. Essi differenziano dei radio buttons che vedremo nella prossima volta, perché mentre in un gruppo di checkbox può essere selezionato un qualsiasi numero di caselle oppure anche nessuna, in un gruppo di radio buttons deve essere selezionato necessariamente un'opzione. Andando nella documentazione, nella sezione dei costruttori vediamo che abbiamo varie opzioni. Possiamo creare una checkbox senza specificare nullo, oppure possiamo specificare un'icona o del testo che dopo verranno visualizzate qui vicino alla checkbox. Inoltre, oltre all'icona al testo, è possibile specificare un parametro booleano che se impostato a true imposterà la checkbox spuntata di default. Ovviamente è possibile anche combinare più opzioni. Invece il metodo indispensabile quando si utilizzano le checkbox lo troviamo qui nella lista dei metodi ereditati dalla classe abstract button ed è isSelected. Questo metodo ci consente di ottenere lo stato del bottone, quindi nello specifico lo stato della checkbox. Se la checkbox è selezionata restituirà true, mentre se non è selezionata restituirà false. Passiamo subito ora al nostro codice e vediamo come utilizzare le checkbox. Dato che stiamo lavorando un programma di automobili, la nostra checkbox ci consentirà di selezionare se l'auto è venduta oppure no. E per rendere le cose un po' più interessanti, se la checkbox è spuntata, quindi nel caso l'auto fosse venduta, si sbloccherà un text field in cui noi potremo inserire la targa dell'automobile. Quindi iniziamo subito a creare un po' di variabili. Partiamo dalla checkbox, privatejcheckbox, e la chiameremo checkvendita. E dato che vogliamo gestire il nostro layout con il grid bag layout, invece di specificare del testo che apparirà qui vicino alla checkbox, ci creeremo una nostra label, quindi privatejlabel-label-vendita. Come abbiamo detto, la checkbox ci sbloccherà un campo per inserire la targa, quindi anche qui ci serve una jlabel-label-targa e un jtextfield-targa. Poi scendiamo e iniziamo a creare i nostri componenti. Prima però facciamo un po' di ordine nel codice con i commenti, quindi qui inseriamo marca, modello, bottone, e qui mettiamo la nostra vendita e targa. Iniziamo creando la label della vendita, uguale newjlabel-vendita, e poi creiamo la nostra checkbox, checkvendita uguale newjcheckbox, e come abbiamo detto non passeremo nulla nel costruttore. Aggiungiamo anche la targa, label-targa uguale newjlabel-targa, e field-targa uguale newjtextfield, specifichiamo anche qui 15 colonne, come abbiamo fatto negli altri due textfield. Di default la label sarà deselezionata, e quindi vogliamo che anche il field e la label della targa siano deselezionati, in modo che l'utente non possa inserire la targa nel caso l'autor non fosse venduta. Quindi utilizziamo il metodo setenable, e lo impostiamo a false sia per la label, setenable, che per il field, quindi setenable anche qui false. Adesso per capire quando l'utente mette o toglie la spunta, useremo un action listener, proprio come abbiamo fatto con i bottoni, quindi check vendita, add action listener, new action listener, e all'interno qui la prima cosa da fare è prendere lo stato della checkbox con il metodo che abbiamo visto prima, e salveremo il risultato di una variabile booleana, quindi boolean selezione uguale check vendita.isselected. Adesso con questo valore booleano possiamo abilitare o disabilitare questi due componenti, quindi label-targa setenable selezione, e field-targa setenable selezione. Se la checkbox viene cliccata per mettere la spunta, la selezione sarà true, e quindi questi componenti verranno abilitati. Se viene nuovamente cliccata per togliere la spunta, la selezione sarà false, e questi componenti verranno disabilitati. Adesso che abbiamo creato tutto, dobbiamo aggiungere il nostro pannello col grid bag layout. Scendiamo nella parte responsabile del layout, e anche qui facciamo un po' di ordine con i commenti. In questo caso andrò a organizzare le cose per righe e componenti, quindi riga 1, label-marca, riga 1, field-marca. E farò la stessa cosa per tutte le altre righe. Ok, una volta fatto ciò siamo pronti a raggiungere i nostri componenti. Per farlo ci basterà copiare la riga del modello, in questo caso, e cambiare un po' di cose. In tanti commenti, in questo caso sarà label-vendita e checkbox-vendita. Modifichiamo le coordinate, ci spostiamo in giù sull'asse Y, ne andiamo a 2, e modifichiamo i componenti che vengono aggiunti. Label-vendita e checkbox-vendita. Incolliamo nuovamente la riga, questa volta sarà riga 4. Ci spostiamo in giù sull'asse Y, andiamo a 3, e cambiamo i componenti. Questa volta sarà label-targa e field-targa. E non dimentichiamoci i commenti. Infine, non dimentichiamo soprattutto di spostare in giù il bottone. Questo qui andrà impostato a 4 sull'asse delle Y. A questo punto possiamo provare ad aggirare la nostra applicazione e vedere se tutto è andato a buon fine. E come vediamo, abbiamo ora la nostra checkbox e un text fill, una label, ovviamente disattivati. Quando andremo a premere sulla checkbox, diventeranno attivi e noi potremo scrivere all'interno. Se togliamo la checkbox, verranno disattivati nuovamente. Una cosa che potrebbe essere interessante aggiungere è un comando che quando noi togliamo la spunta pulisce il contenuto all'interno del text field. Per farlo è molto semplice. Basterà andare nuovamente all'interno dell'action listener e controllare quando selezione è false. Quindi if, segno di negazione, selezione, dobbiamo pulire quel contenuto del field. Per farlo ci basterà prendere fill-targa, set-text e inserire una stringa vuota. Ora una volta avviata l'applicazione, abilitiamo la targa, mettiamo del testo, togliamo la spunta e vedete che verrà cancellato. Una volta terminate le modifiche nel modulo, dovremo andare a modificare la nostra classe form event dato che abbiamo aggiunto dei nuovi valori. Inseriamo un valore booleano che sarà il valore della checkbox e anche una nuova stringa che sarà la targa dell'automobile. Andiamo sul nostro generate, generiamo nuovi getter and setter per questi due valori e come vedete una piccola parentesi che invece di utilizzare getVendita viene utilizzato isVendita. Questo perché questo metodo restituisce un valore booleano. Ecco, adesso modifichiamo anche il nostro costruttore dato che abbiamo aggiunto altri parametri. Sempre su generate, constructor, selezioniamo tutto e diamo ok. E il costruttore verrà aggiornato automaticamente. Adesso torniamo nel pannello form e modifichiamo anche la riga dove viene creato il form event passando i nuovi valori che prima però dovremmo ottenere booleanVendita uguale checkVendita.isSelected e stringTarga uguale fieldTarga.getText Passiamo nel nostro costruttore Vendita e Targa e ora questi valori saranno accessibili anche dal nostro frame utilizzando lo stesso sistema che abbiamo usato la volta scorsa quindi booleanVendita uguale fe.isVendita e stringTarga fe.getTarga possiamo aggiungerli qui venduta e aggiungiamo vendita andiamo a capo scriviamo targa due punti più targa e non dimentichiamoci di andare nuovamente a capo avviamo la nostra applicazione inseriamo marca modello mettiamo la stringa mettiamo una targa a caso e vedete che la nostra textala verranno riportati tutti i dati correttamente ecco per questo video è tutto se vi è stato utile lasciate un like e non dimenticatevi di sirvi al canale e noi ci vediamo nel prossimo tutorial grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti